segui la sette anche su instagram la sette ovunque con te inizia per la prima volta che fa però attenzione per come ha gestito queste ultime settimane che è una roba da far tremare i polsi beh devo dire che se il buongiorno si vede dal mattino io sono molto ottimista perché tenere a bada salvini e meloni scusa salvini e berlusconi tenere a bada e suoi tenere insomma tenere tutto assieme e arriva cioè non è una roba semplice è vero è vero siamo confortati però io aspetto lo spettacolo di domani perché intanto altra anomalia nell'anomalia oggi hanno fatto un comunicato per precisare che domani parla solo l'ameloni così tanto per spiegare tanto per spiegare davanti a mattarello che lo portano così con la maschera in modo che non parla perché se vi ricordate altra scena memorabile le consultazioni al quirinale nel 12 aprile 2018 che parlava salvini e lui stava lì che faceva ripeteva i numeri e i punti poi appena hanno finito lui ha cominciato a straparlare quindi domani sarà una scena che onestamente mi voglio guardare anche gustare per alcuni versi però magari ci rivelerà qualcosa del prosieguo della legislatura attenzione io parlavo di berlusconi imbarazzante per quello che ha detto berlusconi è leader di un partito che ha raccolto il 9 per cento dei voti degli italiani per carità non è che proprio uno che passa è stato tre volte presidente del consiglio unico al mondo tra i vertici del g8 cioè non è che parliamo proprio del primo che passano no no hai ragione però io mi baso su quello che dicevi tu prima cioè lui parla ma tanto il partito noi parliamo di quell'episodio però diciamo gli episodi sono tanti ne abbiamo già solo noi qui stasera elencati parecchi e tu grazie a tutti